Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial su AlterX. Continuiamo la serie di tutorial sulle analisi geografiche, quindi sui tool spaziali, andando oggi a vedere come combinare i poligoni tra di loro. Nello scorso tutorial avevamo visto come creare dei punti, come combinarli in linee oppure in poligoni. Oggi invece andremo a vedere come creare invece delle combinazioni di poligoni. Abbiamo un shapefile dei comuni italiani. Vedete che sono tantissimi poligoni piccolissimi che corrispondono a tutti i comuni d'Italia. E poi abbiamo invece una lista dei comuni che riporta il nome, la provincia, la regione, il prefisso, k, dati che in realtà non ci interessano, e che ha in comune con lo shapefile il codice istat. Abbiamo istat qui e codice istat anche qui. Quello che noi vogliamo fare è, partendo dagli shape, quindi dai poligoni di ogni singolo comune, andare a raggruppare tutti i comuni che fanno parte di una certa provincia per creare il megapoligono della provincia, dopodiché prendere tutti i poligoni delle province che fanno parte di una stessa regione e combinarli in un unico poligono per avere la regione, e poi combinare tutte le regioni in un solo poligono per avere l'intero poligono dell'Italia. Per fare questo dobbiamo crearci un set di dati che parta dal dettaglio più piccolo, quindi il comune, e che vada via via verso il dettaglio sempre più grande, quindi la provincia, la regione e poi addirittura l'Italia intera. Per farlo ci basterà unire queste due tabelle, abbiamo già visto che hanno un campo in comune che è il codice istat, left codice istat, right istat, mandiamo in run, e ci dice che le stringhe possono essere unite solo con altre stringhe, infatti sicuramente questo lista comuni, il codice istat, verrà visto come una stringa di testo, perché arriva da un testo, trasformiamolo in double, trasformiamo in double anche questo, e ora la join ci viene eseguita senza problemi. tiriamo via i campi che non ci servono, però il codice istat non ci serve, il codice catastale nemmeno, il comune ce l'abbiamo già dopo, lo special object ci serve, il codice istat no, questo è stato rinominato in write comune, lo chiamiamo ancora comune, e poi prefisso, cap, codice fisco, abitanti e link, via tutti quanti. ok, adesso abbiamo i nostri poligonini dei comuni, abbiamo l'indicazione di quale provincia fa parte ogni comune, e abbiamo l'indicazione di quale regione fa parte ogni provincia, possiamo prendere un summarize tool e chiedegli di raggrupparci per provincia e di restituirci il first della regione, perché tanto se la provincia è Torino, la regione sarà sempre Piemonte, non ci interessa, e qui, una volta selezionato l'oggetto spaziale, andiamo in special e clicchiamo su combine, mettiamo il nostro bel binoculo e praticamente gli abbiamo detto di andare a combinare tutti i poligoni raggruppandoli per provincia. ed ecco che abbiamo la provincia di Lecce, la provincia di Borno, la provincia di Lodi, la provincia di Latina, e via dicendo. Ora, partendo da questo risultato del summarize tool, mettiamo un altro summarize tool, ma questa volta gli chiediamo di andare a combinare i poligoni combina i special object, che sono già stati combinati prima, e raggruppameli per regione. mettiamo prima il browser tool, ed ecco che dagli shape della provincia siamo passati agli shape della regione. Se adesso facciamo la stessa identica cosa, ma gli chiediamo solo di combinarli tutti, quindi non raggruppiamo più per nulla, ci verrà fatto un mega shape di tutta l'Italia. un unico shape. Come potete vedere, ci sono tutti questi segnettini qui nel mezzo, che alcuni sono proprio buchi, come se fossero dei dati mancanti, altri sono dei pezzi di troppo che provengono dalla combinazione precedente degli shape e che bisognerebbe andare a ispezionare con tutti i tool che abbiamo visto nello scorso tutorial, con lo split, il build, per andare a eliminarli e tenere soltanto i poligoni che davvero ci servono. Altro tool interessante che si usa spesso in combinazione insieme al Samarize per combinare i poligoni è lo Special Info, che è in grado di estrapolare tutta una serie di informazioni dal poligono. Ad esempio, possiamo farci dare l'area in chilometri quadrati e scoprire che la provincia di Agrigento è 3042 chilometri quadrati oppure è possibile anche ottenere altre informazioni, l'area in miglia, per farci restituire i valori come coordinate x e y quindi per creare una combinazione tra due poligoni possiamo usare il Samarize tool utilizzando l'istruzione combina e poi abbiamo anche un altro tool che invece è lo Special Process che come potete vedere ci permette di creare delle combinazioni tra due oggetti spaziali qualsiasi. Possiamo combinarli vedete qua c'è il disegno dell'insieme che dà l'idea di quale sarà il risultato possiamo sottrarre il primo oggetto dal secondo possiamo sottrarre il secondo dal primo possiamo creare un'intersezione quindi avremo soltanto questo pezzo qua il numero 3 o una selezione inversa l'esatto opposto. Quindi mentre il polybuild consente solo di combinare i punti il Summarize Tool consente solo di combinare poligoni lo Special Process consente di combinare poligoni con punti poligoni con linee linee con poligoni linee con punti qualsiasi tipo di oggetto spaziale il tutorial finisce qui ci vediamo al prossimo ciao ciao